Il Napoli Basket è al lavoro per costruire un roster in grado, sin dalle prime battute del prossimo campionato, di lottare per la promozione in massima serie. Diego Monaldi sarà nuovamente protagonista e in collegamento con il canale 696 conferma il rammarico di una stagione fermata sul più bello. Sicuramente sono felicissimo che Napoli ha intrapreso la strada giusta anche dopo il Covid che ha traumatizzato un po' tutti. C'è ancora un po' di rammarico perché comunque dovevamo giocarci playoff e secondo me potevamo dire la nostra. Monaldi e Sandri di conferma, gli arrivi di Lombardi e Marini, ma attenzione anche ai colpi stranieri. Napoli è già pronta per il 2020-2021. C'è un progetto solido che è quello di riportare Napoli in serie A. Anche con Daniele l'anno scorso abbiamo iniziato questo percorso insieme e siamo contenti entrambi sicuramente di continuare. A livello di mercato Napoli già sta facendo benissimo e sono sicuro e convinto che riuscirà a formare un roster adeguato per raggiungere l'obiettivo. Napoli sarà protagonista, anche Scafati rinnova le ambizioni. Caserta ha determinato un nuovo ciclo con D'Andrea, Marruganti e Oldoini al primo vero incontro a Castelmorrone. Per il titolo di A2, Biella respinge il primo tentativo della pallacanestro Avellino, che ci proverà fino a fine giugno per acquisire il diritto di partecipare al secondo livello nazionale.